Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui su questo fantastico canale YouTube che parla di tecnologia e non solo diciamo che parla di tecnologia, io sono Ghera e qui abbiamo Federica E oggi siamo qui perché? Perché non dobbiamo parlarvi di alcun tipo di prodotto ma siamo qui perché abbiamo ben 10 incredibili tech tips da applicare se abbiamo un PC da gaming O meglio se siamo anche alle prime armi quindi per quelli che sono già super esperti ovviamente questo video non fa per voi, però guardatelo perché magari c'è qualche curiosità che vi siete persi qua e là Esatto perché sono davvero molto molto interessanti Direi di partire subito con questi piccoli tips, con questi piccoli trucchetti e il primo è veramente una genialata perché quante volte ci capita che il gioco letteralmente crashi e non possiamo praticamente chiuderlo perché appunto ci fa la classica schermata nera e l'unica cosa che possiamo fare è riavviare il nostro computer un sacco di volte Quindi cosa possiamo fare in questo caso? Beh andare a impostare il task manager sempre in primo piano Così che noi appunto possiamo chiudere tutte quelle applicazioni letteralmente bloccate anche in questi casi appunto veramente estremi E basta chiamarlo semplicemente con CTRL SHIFT ESC così che a portata di mano Ovviamente per tutte quelle volte che Alt F4 non funziona, che non funziona CTRL ALT CANC Insomma ci sono alcune situazioni che purtroppo bisogna risolvere in questo modo Quindi questo è un consiglio Diciamo che poi l'altro problema è gestire sempre i giochi perché abbiamo Steam, abbiamo Epic, abbiamo Ubisoft Abbiamo Microsoft con tutti i vari pacchetti, abbonamento e quant'altro E quindi ricordarsi sempre dove ho messo il gioco, dove l'ho comprato Così anche per condividerlo con gli amici o capire se i nostri amici ce l'hanno Beh è complicato Allora esiste un sito che si chiama Agog che è anche uno store ovviamente per videogiochi anche datati Quindi è veramente un bello store da guardare Che offre un software gratuito che si chiama Galaxy Che vi permette di unire tutti questi store in un unico punto Così da poter gestire i vostri giochi in maniera super comoda Condividerli con i vostri amici Andare a vedere effettivamente su che store l'avete comprato E poi vedere anche quali giochi hanno i vostri amici a disposizione Così da poter giocare insieme E funziona anche con tutti i Game Pass come ho detto prima Quindi se avete anche quello di Xbox lo vedete e funzionerà come tutti gli altri Un altro trucchetto veramente stramica comodo da utilizzare È la combinazione di tasti Alt più Tab Perché molte volte noi non sappiamo come accedere a determinate applicazioni Che abbiamo lasciato magari in background Mentre stiamo giocando E magari certa gente non sa che non serve chiudere direttamente il gioco Per fare queste cose Ma appunto prevede la combinazione Alt più Tab E voi potete appunto switchare con tutti i programmi che voi avete aperti in quel momento Un'altra cosa possiamo anche spostare questi programmi no Quindi se per esempio abbiamo la combinazione di due monitor come ce l'ho io Magari io per esempio il Task Manager sul monitor principale Quindi quello sotto ma lo vorrei sopra Non potendo magari muovere il mouse in certe circostanze Anche qua c'è una combinazione di tasti veramente molto molto comoda Ovvero CTRL SHIFT più le vostre frecce direzionali Le potete quindi spostare su qualsiasi monitor Se avete un solo monitor in realtà abbasserà la schermata sotto in basso nella vostra Taskbar E finora abbiamo dato dei piccolissimi consigli proprio per i neofiti Qui arriva invece la parte più interessante Ovvero la fluidità del gioco Gli FPS e tutte quelle piccole modifiche che si possono fare Per alleggerire un po' il carico dal vostro computer E avere quindi una resa migliore Nel lato pratico di che cosa parliamo? Di tutti quei settaggi veramente pesanti Che per chi non ha un PC da gaming prestante a riguardo Si possono tranquillamente togliere Come per esempio l'anti-aliasing Oppure per esempio la risoluzione Molto importante Se non avete un PC appunto a supporto Che vi permette di giocare anche in Quad HD Potete semplicemente giocare in Full HD Senza rinunciare ovviamente alla grafica Anche qui le ombre e quant'altro Sono tutte delle piccole cose che voi dovete andare a regolare Rispetto a quelli che sono gli FPS Che voi volete andare a raggiungere Infatti come detto non è soltanto la risoluzione A migliorare la situazione Anche perché se abbassiamo troppo la risoluzione Il gioco non ci piace È tutto pixelato e fa schifo Quindi meglio magari rinunciare a quei piccoli dettagli Come i riflessi Come le ombre Giusto come ha detto lei Proprio per velocizzare il tutto Ovviamente nota base Anche qui per i neofiti Tendenzialmente Diciamo così la maggior parte dei videogiochi Superati il Full HD Superato il Full HD Tendono ad utilizzare la scheda video Per ovviamente avere il numero di FPS Più potente possibile l'immaginabile Ma la maggior parte delle volte Appunto non serve arrivare a questa risoluzione Quindi l'importante è avere un buon processore Alla base giusto che è la? Assolutamente sì Che dà supporto sempre e in ogni caso Per chi invece è in possesso poi Di schede grafiche NVIDIA Ma anche MD nella controparte Ci sono alcuni tool che si possono attivare Ora che finalmente sono giunti a una versione sensata Come il DLSS di NVIDIA Ovvero una soluzione che va a ridurre O quantomeno migliorare la situazione E alleggerire un po' il carico Mantenendo comunque una buona qualità All'inizio faceva schifo Adesso è decisamente buono Con questo ci ricolleghiamo al prossimo tool Utile da utilizzare In questo caso sempre con il programma di NVIDIA Quindi con GeForce Experience O GeForce Experience Un po' come la pronuncia si vuole utilizzare Insomma Ossia il controllo degli FPS Tendenzialmente la maggior parte dei giochi Già ce l'hanno integrata questa funzionalità Ma per quei titoli che non predispongono di questa cosa Noi possiamo appunto attivare questa visione Questa visuale degli FPS Sul nostro schermo direttamente Anche qua con la posizione che più preferiamo Quindi sinistra, destra, sotto, in basso, al centro In questo modo possiamo quindi verificare Se tutte le modifiche che abbiamo fatto prima Abbiano o meno un effetto E quindi ci troviamo magari in linea Con quello che poi è il nostro monitor Ed è un po' anche il prossimo tips che vogliamo darvi Perché? Perché è sempre importantissimo capire l'hardware Che abbiamo a disposizione Sia il nostro computer E quanto sarebbe in grado di poter fare Rispetto anche al monitor che acquisteremo Perché se abbiamo un computer un po' economico Che non ha questa grossa forza Di raggiungere determinate frequenze Non ci serve acquistare un 360 Hz ad esempio E soprattutto non ci serve acquistare Neanche un 32 pollici full HD Perché qual è poi al lato pratico Il problema è che vediamo veramente tutto pixelato Perché proprio c'è un'incongruenza Tra quella che è la risoluzione del monitor E quello che noi effettivamente vediamo Con quello che viene restituito dal nostro PC Quindi un consiglio che vi possiamo dare È che se volete stare su risoluzione da 1080p Rimanete nel fantastico 24 pollici O al limite Ma qui siamo proprio al limite 27 pollici Oltre io non andrei Per quanto riguarda il quad HD Possiamo tranquillamente stare tra 27 e 32 4K Non abbiamo grossi problemi Fatto questo Una volta che abbiamo giocato Una volta che abbiamo aperto 100.000 applicazioni Perché streamiamo Perché facciamo bimbarabam Dobbiamo chiudere tutto E ripulire il nostro PC Come con un tool O bene un'applicazione Se così si può chiamare Integrata anche in Windows O meglio si può scaricare Se non sbaglio Nello store di Windows Io quando l'ho cercata Non l'avevo trovato Perché a volte c'è A volte non c'è Comunque vi lasciamo il link Qui sotto per sicurezza Perché non mi ricordo mai Dove è reperibile questa cosa Comunque si chiama PC Manager Ed è veramente una figata Sì è vero A volte appare A volte non appare Comunque c'è lo store Perché è ancora una versione beta Di questo software Ma vi permette proprio di fare Quello che ha detto Quindi evitare che le applicazioni Si aprano all'inizio Eliminare tutte le applicazioni Inutili in background Che una sopra l'altra Come sempre Vanno a incidere parecchio Sul nostro computer Considerate che cliccando Sul tasto boost Che c'è proprio All'interno dell'applicazione Io vado a risparmiare Tipo il 10% sulle risorse Semplicemente così Da computer fermo Quindi immaginate Quanto possa essere importante Durante il gioco Siamo agli sgoccioli Diciamo praticamente Gli ultimi piccoli trucchetti E questo è anche molto comodo Sia se streamate Quindi volete che La vostra voce Si senta in modo ottimale Sia semplicemente Se avete un microfono Non proprio eccelso Sotto l'aspetto dell'audio E comunque volete Che i vostri compagni Vi sentano al meglio possibile Ossia parliamo di RTX Voice Ovviamente questo è pensato Solo per gli utenti Nvidia Come dice il nome stesso RTX Ci sono anche delle soluzioni A pagamento di altro tipo Anche Discord Include una di queste funzioni Ma fa abbastanza schifo Se devo dire la verità Ed è praticamente L'RTX Voice Cosa va a fare? Beh va a cancellare Tutti quei rumori di fondo Quindi avete che ne so Un condizionatore in estate Un ventilatore Che va nello sfondo Così in background E quindi dà estremamente fastidio Ai vostri amici O alla live che state facendo Beh questo tool Effettivamente funziona Molto molto bene E riesce a rimuovere Grazie a tecnologia RTX Quindi sfruttando La stessa scheda grafica E i calcoli che può fare A eliminarvi Questi rumori di fondo Che così vanno Diciamo ad aiutare Le orecchie dei vostri amici Ultimo consiglio Che poi in realtà Si va a ricollegare A quello che è un nostro parere Periferiche qua Se ne potrebbe dire Praticamente il mondo Potremmo stare tipo Uno da parlare solo Di periferiche O meglio io In pratica che cosa Vogliamo dirvi Che anche qui Se voi volete fare Uno step successivo Un upgrade Anche sotto questo aspetto Perché magari utilizzate Il classico mouse Da 20 euro La tastiera Quella comprata dai cinesi Sotto casa Con tutto il rispetto Per i cinesi Che vendono queste periferiche Ma appunto Se voi volete Cercare anche di migliorare In quelli che sono I vostri videogiochi Sparatutto FPS Competitivi E quant'altro Avere delle buone Periferiche a supporto Può essere veramente comodo Ovviamente Qua da scrivere Tipo in grassetto Con 100 miliardi Di asterischi E quant'altro Non è la periferica Che vi fa diventare Un pro player Aiuta Perché magari La tastiera vi dura di più E' più responsiva Il mouse E' più rapidi Ha la connessione Migliore E' più leggero E quant'altro Ma non vi rende Un pro player La periferica di per sé E' semplicemente Un aiuto a riguardo E come paragonare Un paio di scarpe A un corridore Sulla velocità C'è gente che correva Senza scarpe Ed era più veloce Di quelle con le scarpe Quindi ovviamente Non cambia molto Potete usare un mouse Da 20 euro Tranquillamente Ma se volete farlo Step in più Come ha detto lei Magari bisogna spendere Qualcosina in più E tra queste periferiche Si intende quindi Mouse Tastiere Cuffie Tappetini Monitor Come detto prima Che considero sempre Una periferica Più che l'hardware a sé Perché comunque È fondamentale Senza Non possiamo farci nulla E poi alla fine Ragazzi Un consiglio Visto che ultimamente Stiamo giocando anche noi tanto Stiamo giocando anche Nel mondo competitivo Con Valor E quant'altro Ragazzi Questo è sempre un gioco È sempre Ricordatevi Un gioco Quindi mi raccomando Esiste un mondo là fuori Godetevelo Staccate ogni tanto Perché sennò Diventate tossici da morire Esatto Noi vi stiamo dicendo Proprio questo Proprio perché Vi riportiamo come sempre Quelle che sono Le nostre esperienze Nella vita reale No Quindi Vedere che la gente Se la prende proprio male Ma sta proprio male C'è roba che si gioca a breve Il proprio genitore Per una partita che non è neanche Una partita decisiva No per un qualcosa Ma è solo proprio per Chillare Come si suol dire È veramente veramente brutto State male voi Fate star male gli altri Per quanto magari voi Non possiate essere empatici Insomma possiamo Non metterci anche la mano Sul fuoco a riguardo Però Cercate di Prendere il gioco Per quello che è Cioè un videogioco Una volta finito Una volta staccata La spina del vostro computer C'è il mondo del lavoro C'è la vostra fidanzata C'è il vostro fidanzato C'è una famiglia C'è tutto quello che è reale Che non è magari Valorant Che non è magari Counter Strike Che non è Rainbow Six Non è niente del genere Sì e vi do l'ultimo consiglio Quando vi sentite quindi Oppresso un po' dal gioco Siete stressati Vedete che veramente Tiltate a morire Spegnete Oppure cambiate gioco Fate non so Un campo fiorito Un campo minato Oh quello bellissimo A cui stai giocando In questo periodo Ah sì aspetta A little for bit Cos no No A little to the left A little to the left In pratica ragazzi È il classico gioco Per chi ama l'ordine Ecco diciamo così Sì ma è rilassantissimo Perché è un po' tricky Perché ci sono tutti questi giochi Enigmi e quant'altro Ma vi rilassa anche Quindi è veramente bello Mi pare che sia proprio quello il titolo Al limite vi lascio il link qui sotto Se mi ricordo Oppure il nome Semplicemente perché adesso YouTube non vuole i link Nelle descrizioni Quindi Sì immagina spendere 8 euro Per mettere tipo in ordine Delle matite O mettere in una certa direzione I quadri Insomma Veramente qualcosa di Apernante per me Però comunque a lui piace Quindi non possiamo dire nulla A riguardo Detto questo Ricordiamoci quindi Di quello che abbiamo appena detto Cercate di rilassarvi Quando giocate Non tiltate Perché poi giocate solo male Non è vero Lei è una maniaca Dell'ordine assurda Quindi quel gioco Le piacerebbe tanto Detto questo ragazzi Quindi questi erano I dieci consigli Che volevamo dare Per neofiti E non solo Comunque è sempre Un buon modo Per riepilogare Un po' la situazione Anche nel mondo gaming E quindi se il video vi è piaciuto Lasciate un bel pollicione in su Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo Sicuramente Con il prossimo video A presto Ciao 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 Ciao